Mi vado che scemanza per vincere, perché odiamo il cuore di te, come vinci e di notte. Scompeto che ci vediamo per i figli, la risa di mezza, sono scoperto in mezza, e in quarta sera mi manca la tua sfera, non è la primavera, sembra ieri, sembra ieri, che la sera ci stringeva, quando tu stringete in me. Ricorda ancora quella sera, guarda la lune, le voce e le mani, dalla spiaggia a sbagliere, vedi che so qui che tremo, parla, 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 ma quando sono andato a tutto, mi ricorda dove, e mi rivedo che scemanza per vincere, dentro il diavolo e quasi tremo, come vinci e di notte. dentro di noi, dentro di noi, stessi sui tre minuti, forse sono due, e mi manca parte, di un passato, tra la poma e le macchie, cosa mi rivedere, cosa mi rivedere a tu pagliare, quando mi rivedere, quando mi rivedere, ricorda quando la sera, guarda la mamma, e le cose e le mani, dalla spiaggia a sbagliere, e a me ti chiedo, qui che tremo, parla, 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 ma quando sono andato, sono andato a tutto, per sbagliare, e mi rivedo, che scemanza per vincere, dentro il diavolo e quasi tremo, come grigide di notte. A quando ero bambina, e te ti salva da un rimane, e da te, da te, da te. Buonasera. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buonasera. Cantare per voi è un onore, perché la mia grandissima istituzione, che è stata proposta poi, dai personaggi fantastici, Borsellino e Coni, che ci hanno insegnato, non avere paura di talità, non avere paura di disturbare, disturbare, ma, avere certe dinamiche, e, credo che la musica, serve anche a questo, no? Credo che il messaggio della musica, è fortissimo, quando si identifica, con la voglia di, con la voglia di verità, la voglia di libertà, di poterci esprimere, e di poter essere noi stessi, quindi vi voglio ringraziare, per avermi invitato questa sera. Grazie mille. La musica vera parla anche di, parla anche di grandi collaborazioni, io per parte, mi ricorda, sono stata molto fortunata, nella mia vita, perché ho avuto la possibilità, di collaborare, con dei grandissimi artisti, una di queste è una grande donna, siccome si parla molto di sorrellanza, ultimamente, questa donna è, Fiori la Mannoia, io voglio ringraziare, è stato un grande incontro per me, soprattutto perché, mi ricordo, stavamo vencedere questo pezzo al forum, che è uno studio, che tra l'altro è molto vicino, è stato fondato, dal nostro Riccioni, dal mio buon rigore, e ha cantato la musica, della musica che ne abbiamo, io ho sentito cantare, come era questa canzone, che faceva anche del mio disco, e l'ho voluta, l'ho voluta rimattare, perché lei mi ha fatto capire, forse, la profondità, di questa canzone, che, forse non mi sarebbe arrivata, se non l'avessi sentita cantata, anche da lei. Buona sera!